Una notizia molto brutta per la salute degli italiani con dentro una punta di risvolto positivo temporaneo. Infatti il governo sta per valutare l'innalzamento dei limiti di emissioni elettromagnetiche. La buona notizia è che è stato rinviato il Consiglio dei Ministri a riguardo, ma è solo questione di tempo perché questo avvenga. E quindi l'unico vantaggio che avevano gli italiani sugli altri paesi europei, quelli di avere una salute elettromagnetica migliore, andrà a scemare. Infatti l'Italia era l'unico Stato che ancora aveva i limiti di emissioni impostati a 6 volt per metro nelle aree in cui vivono le persone o transitano le persone e a soglie leggermente più alte nei campi aperti, mentre nella maggior parte dei paesi d'Europa la soglia è già sui 20 volt per metro. Perché questa scelta? Perché con l'arrivo del 5G, e io che ho avuto modo di provare il 5G me ne sono reso conto, il 5G a potenze basse funziona pessimamente. Il 5G infatti ha bisogno di molti ripetitori a intensità più basse sparsi su tutto il territorio, cosa che adesso non abbiamo. Sono pochi i ripetitori 5G e quindi non funziona in maniera propria. Era solo destino che prima o poi adottassimo i limiti della comunità europea, ma speravo, speravo per l'Italia, che questo non avvenisse. E' ovvio che vedo il vantaggio, sicuramente miglioriamo la connettività, miglioriamo la velocità di lavoro, miglioriamo tantissime cose. Ma cosa ne sarà della nostra salute esposta 24 ore su 24 a 20 volt per metro invece che a 6? Solo i posteri lo scopriranno. Per me è una pessima notizia per gli italiani.